sa ragazzi bentornati su ditelo voi lo so che lo sapete da lo sapete esatto bravissimi su nemesis la mappa che stiamo iniziando un attimino ad odiare perché guardate alle mie spalle che cosa c'è siamo praticamente in un inferno maledetto dove ci attaccano di tutto e di più e c'è un blocco di lava se io casco nella lava perdo tutto ed è una cosa molto probabile non so più come mi devo muovere abbiamo iniziato questo episodio la volta scorsa cercando il blocco di lana ma siamo praticamente abbiamo fatto dieci metri cioè in dieci metri è successo il devasto e io non so che devo fare quindi penso che dobbiamo usare ancora più strategia del solito quindi io procederei la c'è uno spawner di quei cosi maledetti no questi troppo forti allora questo qua lo butto giù e velocemente con una torcia cerco di bloccare qua guardandomi intorno perché raga qua stanno gli spawner da tutte le parti quindi guardiamoci intorno cerchiamo di non attivare spawner gratis l'ho visto che tu da dove sei spuntato meno male che c'è un knockback ho sentito un creeper t'ho sentito tantissimo t'ho sentito tantissimissimo e te ne puoi anche andare a morire nella lava ora se mi fate distruggere questo cioè non è per cattiveria lo voglio semplicemente eliminare dalla faccia della terra tu potresti finire nella lava un pochino oh bravo che cos'è un altro creeper vicino alla mia cesta non ti devi avvicinare brutto creeper schifoso troppi creeper ragazzi qua c'è uno spawner di creeper che non sto vedendo e mi sto inquietando allora iniziamo a prendiamo tutto e ce ne scappiamo prendiamo tutto velocemente senza prendere le cose inutili e allontaniamoci un attimo da questa zona qua che cosa ho preso unbreaking fire protection 1 blast protection unbreaking 2 è meglio quella che c'ho però ho capito che c'è fire protection però non è che posso rinunciare a tutti gli incantamenti per la protezione dal fuoco certo mi farebbe molto comodo avere un altro po di protezione dal fuoco ma nel caso la metteremo strada facendo e tu da dove sei spuntato oddio raga io so già non ce la faccio ce la posso fare io non ce la posso fare cioè è troppa gente perché mi sono avvicinato così tanto no 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 questi scheletri no questi scheletri no porca miseria porca miseria ragazzi sto morendo ci sto morendo ci sto morendo tantissimo ragazzo vicino alla lava ci sto morendo devo allontanarmi dalla o mio dio mi sto terrorizzando o mio dio mi sto terrorizzando tantissimo vai nel nostro tunnel segreto mangia mi sono salvato e non lo so manco io come non lo so non lo so come sono salvato non me lo chiedete senti ragazzo ma vai là dentro non rompere le balle così ti secco un attimino meglio e dalla distanza sei com'è ci abbiamo knockback ti chiudo in quel buco e prima o poi ci muori ok c'è morto benissimo allora come procediamo non lo so ragazzi io non lo so come procediamo so che qua c'è un casino e so che io sto messo veramente male mangiamo un altro po mi sta finendo pure la carne qua che cosa c'ho un instant health va bene instant health ok va bene anche questo e a sto punto penso che per questo tratto di mappa ci mettiamo l'armatura che ci dà protezione dal fuoco ok dobbiamo spegnere un po di fiammelle qui ragazzi perché altrimenti da dove è spuntato da dove sei spuntato tu mi hai fatto pure terrorizzare dicevo dobbiamo stare attenti alla lava ai mob a tutto quello che ci circonda e magari se faccio una corsa riesco a disattivarlo sto coso si mettici in un'altra torcia prendi piccone veloce che cosa sto facendo torcia ok fermi siamo andati un pochino avanti quella l'ho presa si cosa c'è qua andiamo a vedere qua dentro cosa c'è niente va bene abbiamo superato quei due ma spone che non mi ci avvicinerò mai ovviamente e raga mob sponer di di blaze in mezzo la lava ad un'altezza sconvolgente non sono una cosa buona ecco creeper se caschi anche tu nella lava guarda io ti dico anche grazie potreste cascare tutti quanta gente sta venendo di là per favore per favore non mi fate diventare cattivisti ok devo fare il giro ci sarà un motivo per cui mi sta facendo fare il giro controlliamo contro perché sono andato qua perché sono andato qua perché c'è qualcosa di interessante ok attenzione alla lava la lava la lava è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare bene il creeper è esploso lontano da me c'è un sacco di gente non sono troppi non li posso mai affrontare sono troppi troppi è di nuovo in bilico sulla lava e torniamoci nella nostro rifugio qua ok mi saranno seguendo sicuramente quelli perché quelli sono bastardi quelli sono bastardi quelli ti seguono tantissimo ok in teoria non possono raggiungermi e rimangono bloccati tutti qua sotto cos'è non saltate maledetti vienici forza vienici dai avanti ma ammazzo da qua che non mi frega niente a me cioè ragazzi vi state rendendo conto del livello di questa mappa cioè sono potentissimi però stimo 8 mila anni ok allora si metto qua avendo tutti quanti qua sotto come deficienti vi ammazzo meglio adesso ci casco in questo buco e muoio io per favore potreste morire lentissimamente non lo so metto così morite prima no ma hanno beccato ma hanno beccato tantissimo ecco adesso è la fine adesso è la fine devo semplicemente usare lo scudo c'ho lo scudo calmi 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 e c'ho lo scudo dovete stare calmissimi però non mi dovete ragazzi sono morto ragazzi qua ci muoio ragazzi io qua ci posso morire tantissimo non faccio in tempo a mangiare vero non faccio in tempo mai a mangiare scudo proteggimi oddio ho preso un colpo oddio ho preso un colpo allora vediamo se riesco a fare una cosa non lo so se ci riesco probabilmente non ci sto riuscendo vorrei giragli intorno ecco scudo proteggimi scudo proteggimi non ti scoprire non ti scoprire ok dietro di me cosa c'è dovrei provare a fare una spatata e un salto mamma mia non lo so nemmeno io come ho fatto la casa non lo so come ho fatto ma mi sono salvato tantissimo allora adesso basta di fare gli eroi da quattro soldi perché insomma è abbastanza stupido insomma scendiamo a compromessi con le nostre debolezze sono troppo forti per noi quindi io direi senza proprio pensarci li muriamo qua sotto e chi si è visto si è visto bene morite ci state qua fate quello che vi pare non vi voglio più vedere pure finire il cibo mi sto angosciando tantissimo però mi son salvato mi sono ricordato in extremis che avevo lo scudo l'ho usato e mi son salvato e la vedo una blaze che non si sa da dove cavolo sia spuntata in questo momento lì ho messo una torcia una piccolissima torcia che magari potrebbe rallentare lo spawn di quella roba adesso qua si dovrebbe essere la blaze eccola qua la blaze con due frecce dovresti morire sì è morta ora c'è anche il ragno va bene cos'è uno spider titan pure questo spero proprio di no ma perché ma perché sono andato là perché perché faccio le cose che non so perché vado in posti strani brutti vabbè è solamente uno lo butto nella lava e sono a posto eccolo la lava ed è sono a posto sei andato nella lava si è andato nella lava non è andato nella lava sta tornando ma sei me fitico per favore l'ho perso eh senti non sono morto con tre potrei morire con te sì potrei morirci tranquillami no il fuoco no oh ragazzi mi devo spostare è una situazione bruttissima ma guarda che continua potresti cascare nella lava c'è della lava bellissima un codinello lava maledetto schifo di un nano selvatico impelosito non so che cavolo sto dicendo mangia dov'è quella blaze orribile lì da dove stanno spuntando queste blaze perché vedo blaze raga io non so come farlo sto ripeto ve lo giuro mi sto mi sto angosciando tantissimo in questo momento cioè sta diventando tutto molto molto complicato forse anche troppo complicato per i miei gusti meglio farci ecco qua ci facciamo un piccolo rifugio senza senza strafare metti un piccone più normale togli sta stascia che so perché pensavo fosse l'ascia della vita invece non fa niente mettiamo un po' di illuminazione e rompiamo qua oh vedi piano piano si fanno le cose che si devono fare voglio dire giusto giusto ok siamo arrivati qua quanto mi piacerebbe avere un secchio d'acqua in questo momento ho visto dove sono spunate le blaze ci arriverò a metterci una torcia probabilmente no vabbè le piazzo lo stesso un po' di torce e poi me ne scappo veloce come una faina muflonica imbufalita ok abbiamo messo un po' di torce praticamente qua ragazzi dobbiamo giocare con le torce non ci sono moltissime alternative e devo soprattutto vedere dove sta quella blaze assassina che al momento non vedo o l'ho vista con la coda dell'occhio tantissimo là c'è un enderman non ce ne frega niente magari la blaze non mi ha visto anche lei adesso va bene mi stanno vedendo tutti ce la faccio ce la faccio si si ce la faccio ho rotto lo spawner velocissimi abbiamo fatto un rifugio a prova di fuoco ci infiliamo dentro e aspettiamo chi viene insomma qualcuno arriverà lo so quei nani maledetti schifi eccolo è un po' scemo il nano lo so guarda ti preparo il trappolozzo della vita nano non viene più è deficiente questo trappolozzo della vita potrebbe essere un trappolozzo anche per me però dov'è? chi mi sta colpendo porca miseria allora non vedo il nano è la sonne blaze ok ce la posso fare? possibilmente guarda quella l'ho seccata ce n'era un'altra sta là sotto eccola la nostra genueffa infuocata si ma io vorrei sapere il nano dove sta ma quante ce ne stanno di ste cose? non vedo nulla ragazzi io ok l'ho visto dove mi sta sparando sta dietro la lava ma sei proprio bastarda però dai c'è dietro dietro la cosa di là è tornato anche il nano e che ti butto nella lava? eh muorici no non ci muore nella lava aspetta 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 piccone grazie bravo ciao quando arrivi mi raccomando scrivi eh ok ce lo siamo tolto dalle balle anche questo mi sembra giusto bene abbiamo finito anche quest'altro tipo di cibo e siamo ridotti a mangiarci il pane in questo livello voi capite che ragazzi è una roba incredibile da fare cioè andare avanti in questo livello con delle pagnottelle di pane assurde non è proprio una cosa bellissima allora quello l'ho distrutto e va bene quest'altro l'ho distrutto e va bene io illuminerei tutta la zona e là c'è uno spawner di questi vabbè questi qua sembrano potenti ma in realtà col fatto che sono lenti comunque sono abbastanza gestibili certo potrebbero tranquillamente rompere le palle uguale però se li riesco a buttare magari nella lava laggiù ecco dove ho buttato tu dovresti morire semplicemente là per favore grazie ok una volta buttati lì sono praticamente innocui ora io shh non si è attivato non si è attivato non si è attivato magari riesco a disattivarlo metti una torcia metti una torcia per favore fai veloce per favore fai veloce becca quello l'ho rotto ma è spuntata lo stesso la blaze porca vacca prendi questo bellissimo arco controlla dove è la lava dietro di te memorizza tutti i posti ce n'è un'altra nascosta dal fuoco io l'ho vista eccola là la schifosa sta per sparare ha sparato eh ha sparato lo so lo so eh lo so ragazzi ci posso fare niente ok però stiamo procedendo ora qua abbiamo fatto giusto qua ci sono degli scherzi oddio gli scheletri sono potenzialmente molto pericolosi andiamo a rompere questo velocissimi rompio anche questo molto veloce cosa c'è qua la spada sweeping age va bene penso che sia buona che cosa c'è rispetto all'altro fammi vedere questa c'è un base sharp dovrebbe far male in teoria io spero che sia buona poi c'è sweeping age quindi becchiamo 50 persone contemporaneamente ok molto molto con calma guarda scheletro che piacere vederti te lo giuro è veramente un piacere almeno se hai dei mob normali che posso ammazzare in modo tranquillo ok ok con calma con calma con calma senti fammi ammazzare prima questo che secondo me c'ha la priorità ed è spuntato anche lui però non c'ho più capito che c'ho sweeping age su quest'arma ma va bene però una cosa fondamentale che questa aveva è knockback signori knockback è fondamentale di fondamentale importanza perché mi permette di sbattere questi tipi adesso ci muoio porca miseria porca miseria lo scheletro mi sta creando più problemi del previsto dov'è lo scheletro schifoso proprio allora con calma devi cadere solamente nella lava guarda casca laggiù e rimanici gentilmente mi fai un favore che qua ci abbiamo da fare non è che posso perdere tempo così a pettinare i peli degli scheletri che saltano felici nella lava non ha senso allora abbiamo superato questo livello drammatico e ci stiamo avvicinando a un altro livello molto drammatico è che giustamente ne passi uno e arriva un altro vabbè questi qua li devo seccare piano piano con molta calma proprio in modo sciallo tranquillo e sereno mi allontano in modo che lo spawner non si riattivi mangiamo guardiamoci anche le spalle ragazzi e qua è tutto un dramma è spuntato anche Ermenegildo lo zombie villager che gira solitamente nell'inferno lui è proprio un abitante tipico di questi luoghi e fa così intanto è morto subito questi ci mettono 15 anni per morire sti maledetti ok vabbè poi senti io devo mangiare un po' con calma con molta calma senza accalcarci non ci accalchiamo mi raccomando non ci accalchiamo perché è maleducazione allora a te ma perché sbaglio mira che c'ho mezzo cuore qua ragazzi io ci posso morire tranquillamente non so perché ok casca nella lava anche tu e ce lo siamo tolto dalle balle pure a quello va bene andiamo a rompere quel mob spawner cercando di riuscirci non sponate non sponate non sponate non sponate non sponate non sponate metti una torcia indietreggia dimmi che quella è la lana ti prego dimmi che è la lana perché non ce la faccio eh aspetta se quella è la lana eh io lo sapevo allora quella è la lana potenzialmente ora io non c'ho voglia di affrontare tutta sta gente quindi me la gioco in modo più furbo di loro vi faccio vedere ragazzi perché poi dice no no avevo scambiato per per della lava pensavo di morirci male ok non sono stato per niente intelligente devo scappare velocissimo no non sono stato per niente intelligente non morire non morire non morire bravo mangia mangia c'è un creeper c'è un creeper del fuoco e un mezzo cuore e c'ho uno che tira le frecce infuocate cioè cosa potrebbe andare storto voglio dire se non morirci malissimo ok però la lana non l'abbiamo vista ragazzi sta là la devo solamente andare a prendere è un gioco da ragazzi voglio dire da ragazzi pazzi non è che il creeper mi arriva alle spalle e mi fa saltare per aria vero il creeper è là signor creeper guarda lei è veramente furbissimo comunque complimenti per l'intelligenza artificiale che le hanno messo c'è un creeper deficiente là c'è uno scheletro io non mi farò guardare dallo scheletro ma lo ammazzo direttamente che faccio prima va bene cerchiamo di risparmiare un po' di cuori ragazzi perchè qua stiamo anche saurendo le frecce si mi sono mosso lentissimo hai ragione sono stato abbastanza scemo potevo evitarla tranquillamente quella freccia ok volevo passare da sotto ma evidentemente l'hanno previsto e quindi non ci posso passare da sotto ora che cosa mi ha colco perchè sto prendendo fuoco perchè c'è questo deficiente allora ascolta eh ragazzi hai rotto le palle adesso ti ammazzo non è vero non è vero non è vero no non morire non morire non morire non morire evita le frecce evita le frecce non prendere danno da caduta mangia il pane velocemente evita il fuoco evita le frecce evita qualsiasi cosa evita anche lo zombie in questo momento evita pure di respirare possibilmente signor zombie lei non si avvicini per favore per favore stiamo lontani tutti da me raga è complicatissimo enderman non ti ho visto quello sta là fermo 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 abbassati guarda ti becco proprio nel cervello adesso boom è complicatissimo allora cerchiamo di non far attivare nulla e soprattutto cerchiamo di capire dove stanno i spawner così non si attiva niente ancora niente vero no perfetto inizio a mettere torce che non si sa mai ecco vediamo se riesco a stare qua su sono ancora disattivati ok magari riesco a stare anche qua su quello si è attivato ok me la devo giocare no non me la devo giocare più no 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 ci ho provato ci ho provato ma è stata una cosa molto fallimentare ragazzi lui è là e lo becchiamo sulla distanza forse ok l'ho beccato porca miseria mi stava ribeccando ok tre frecce muoiono perfetto quante frecce ho 29 interessante va bene il problema è che io non riesco a disattivarli quei cosi velocemente e soprattutto ho scavato anche sto buco che alla fine mi è solamente di intralcio perché potrei finirci dentro non è una cosa molto utile ragazzi ce la facciamo a fare una cosa velocissima posso provarci butto una freccia qua una freccia qua freccia poi torcia vabbè è uguale rompilo rompilo santo dio rompi quel coso torcia da tutte le parti muoio appena entro qua dentro mi si attiva lo spawner lassù che secondo me sono blaze a meno che io non ci attivo così prendi signori abbiamo la lana lana presa me ne frega niente ciao è stato bellissimo veramente complimenti il suo livello proprio fantastico io adesso molto calmo calmo e tranquillo me ne vado non ci tornerò mai più qua dentro raga diciamocelo siamo stati bravi stavo per morire ok siamo stati bravi stavo dicendo perché abbiamo fatto il livello abbastanza difficile non siamo ancora arrivati a casa quindi tutto potrebbe succedere in modo abbastanza drammatico però insomma più o meno dovremmo avercela fatta cosa ne dite voi quindi vabbè qua c'è l'inferno giustamente spegniamo un attimo il fuoco spegniamo qua ok va benissimo facciamo questa strada non lo so va bene l'importante è che me ne torno subito a casa devo posare sto blocco di lana mamma mia via a casa dove è l'ender chest l'ender chest datemi un'ender chest di qua di là di qua ok ragazzi oddio siamo tornati a casa non ci voglio credere quindi prendiamo questa maledettissima lana verde e andiamola a mettere nel suo posto ecco qua perfetto fuochi d'artificio bene ragazzi io spero veramente questa questa partita vi sia piaciuta perché è stata veramente difficile complicatissimo sto blocco di lana penso che sia stato il più difficile in assoluto se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like spolliciate condividete sia il video che il canale sui vostri social come sempre e mi raccomando se non volete finire all'inferno come stavo io due secondi fa iscrivetevi al canale perché io ve l'ho detto iscrivetevi che è meglio fidatevi di Kriamo perché Kriamo non mente mai o quasi mai insomma dipende poi se faccio dei troll ma non importa non è questo il caso quindi per questo video è tutto ciao ragazzi